Ehi là ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un replay direttamente dal mid-season showdown di Liverpool. L'ultimo round, l'ultima partita dell'ultimo round tra l'altro, tra me e Michele Gavelli. Non vi spoilerò come è andata a finire. Gioppi giocava Fake PM, ovvero Fini, Arcanine, Cartana, Coco, Porygon2 e Muzzdale, mentre il mio team ormai l'avete visto, quello della scorsa Rottoranked. Non vi spoilerò niente. Buona visione! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.